Buonasera e bentornati, qui in questo video parleremo della rivoluzione bolshevica che ha portato al potere per la prima volta al mondo un partito comunista in un grande paese e siamo in Russia e siamo all'inizio del Novecento, anzi siamo nel 1917, però per capire cosa è successo e perché bisogna come sempre tornare un pochettino indietro e spiegare un po' come era la società russa, come era la Russia al momento dello scoppio della rivoluzione. La Russia che partecipava alla prima guerra mondiale in qualità di alleata delle potenze dell'intesa e di nemica degli imperi centrali era, allora come oggi, anzi assai più di oggi, un grande paese, il più grande del mondo ed era un impero, una autocrazia, cioè uno stato monartico, un impero dove il sovrano godeva di un potere assoluto, il sovrano si chiamava zar, parola russa che deriva direttamente dal nome di Cesare e che significa imperatore. Nell'ideologia, anzi, russa, lo zar, l'imperatore di tutte le Russia, come si diceva, era niente meno che l'erede degli imperatori romani. Eppure la Russia era un paese molto arretrato, era un paese immenso, più grande di quanto non sia oggi la Russia, che comprendeva ad esempio anche parti della Polonia, ma in compense era il paese più arretrato d'Europa, aveva un'agricoltura arretrata, un'industria che stava ancora appena nascendo e aveva abolito addirittura solo pochi decenni prima la servitù della gleba, istituzione che in Europa, nell'Europa occidentale era scomparsa da secoli. Però, nonostante questo, la Russia all'inizio del Novecento cresceva, stava crescendo, stava iniziando la sua rivoluzione industriale nelle sue grandi città e questo significa che stava anche crescendo una nuova classe sociale, la borghesia, che voleva cambiare le cose, non si accontentava più della situazione tradizionale della Russia, in particolare del suo forte legame con il passato anche religioso della della Russia, che era anche l'unico paese, grande paese europeo, dove ancora all'inizio del Novecento la fede cristiana ortodossa fosse al centro della vita pubblica. La borghesia insomma voleva cambiare le cose e accanto a questa borghesia si stava formando ovviamente nelle nuove fabbriche un proletariato. Sono due classi sociali, la borghesia e il proletariato, che sono entrambe prodotti dalla rivoluzione industriale e che mentre in altri paesi erano avversarie l'una dell'altra, in Russia all'inizio del secolo collaboravano ancora nel loro intento, nella loro intenzione di superare la retratezza della società russa. E proprio per questo c'era già stata una prima rivoluzione nel 1905, fallita, prima rivoluzione russa nel 1905 fallita e repressa dallo zar con centinaia di condanne sia a morte sia all'esilio in Siberia, e però il malcontento c'era. Il malcontento c'era e riemerse appunto durante la prima guerra mondiale, la partecipazione russa alla prima guerra mondiale. Riemerse perché al malcontento che già c'era dovuto alla retratezza della società russa, si aggiungeva quello dovuto alla guerra, ai grandi lutti e disagi della guerra e in generale al fatto che la guerra stava dotando i russi di una consapevolezza dei loro diritti che prima non c'era. Nel dicembre del 1916 accadde la scintilla, esplose la scintilla che fece scoppiare la rivoluzione e questa scintilla fu un omicidio. Venne ucciso Grigori Rasputin che era un veggente, un monaco, sosteneva di essere un monaco, in realtà non lo era, ma era un veggente religioso che era diventato intimo amico e confessore della corte dello zar Nicola II e di sua moglie. Venne assassinato quest'uomo, che era molto odiato dai russi che lo consideravano un cattivo consigliere della famiglia dello zar, venne assassinato da chi? Da un principe, da un nobile, il principe Yusupov. E questa fu la scintilla che fece iniziare la rivoluzione, che quindi iniziò per iniziativa non del proletariato, ma appunto di un principe, dell'aristocrazia russa che era a sua volta malcontenta dello zar. Questo accade il 29 dicembre 1916, quindi alla fine del 1916. Pochi giorni dopo, nel gennaio dell'anno successivo, nel 17, a Pietroburgo, che era la capitale allora dell'impero russo, scoppia una rivolta di donne che protestavano contro il caro vita, il caro pane, in particolare dell'alto prezzo del pane. E questa cosa fece ulteriormente degenerare la situazione in Russia e fece sì che questa rivolta che era iniziata tra gli aristocratici si unisse anche la classe proletaria urbana di Pietroburgo. Perché donne? Prima di tutto perché gli uomini erano quasi tutti al fronte, siamo in piena prima guerra mondiale. E poi perché il problema che fece scoppiare la rivoluzione tra il popolo russo era un problema pratico di approvvigionamento nelle famiglie, di prezzo del pane. In pochi giorni la situazione degenerò a tal punto che lo zar Nicola II abdicò, rinunciò al suo trono e da quel momento in poi la Russia rimase senza uno zar e divenne di fatto quindi una repubblica. Questa è la prima rivoluzione russa, la cosiddetta rivoluzione di febbraio, perché avvenne appunto nel febbraio dell'anno 1917, portando non ancora a un governo comunista ma a una semplice repubblica borghese. In questa fase la rivoluzione è una rivoluzione borghese. Tanto che il nuovo governo che si forma, il più importante di questi governi di breve durata, è guidato da un certo Kerensky, il quale è un socialista moderato rappresentante della borghesia russa e in particolare degli obiettivi politici di questa borghesia russa che voleva creare una democrazia parlamentare sul modello inglese, di tipo occidentale insomma. Insomma questa è una rivoluzione borghese che genera un governo, una serie di governi, ripeto il più importante guidato da Kerensky, di breve durata, perché aveva questo governo Kerensky tanti problemi da affrontare tutti insieme. Innanzitutto c'era la guerra che proseguiva e andava sempre peggio per la Russia, sempre più soldati disertavano. Ricordiamoci che i soldati nella prima guerra mondiale sono quasi tutti contadini e quindi disertavano, nel momento in cui disertano danno inizio anche a una rivolta contadina e in particolare la richiesta di questi contadini russi era la redistribuzione delle terre ai contadini stessi. Quindi il governo Kerensky doveva vedersela con il scioglimento graduale dell'esercito russo e con il malcontento dei contadini che volevano la redistribuzione delle terre. Di questo malcontento si fece portavoce il partito cosiddetto Bolshevico. Bolshevico è una parola russa che significa maggiore e serve a distinguere questo partito da altri partiti simili che si erano formati negli anni precedenti originandosi tutti dal partito socialista russo, cioè il partito socialista russo si era spaccato in più tronconi, in cui uno era questo, il troncone cosiddetto Bolshevico. Guida di questo partito, quindi socialista Bolshevico, era Lenin, guida sia politica che ideologica, autore di molti libri e importante anche come teorico politico e quindi come filosofo, il quale aveva passato gli ultimi anni in esilio all'estero e in questo momento, cioè durante il governo Kerensky, si trovava in Svizzera. Dalla Svizzera rientrò in Russia, attraversando il territorio della Germania, che era nemica della Russia, tanto che ci fu chi sospettò che fosse d'accordo con la Germania. In ogni caso, d'accordo o non d'accordo, in aprile 1917, Lenin in treno arriva in Russia, a San Pietroburgo, la capitale, e immediatamente è sceso dal treno, un celebre episodio storico, tende a un improvvisato discorso in cui espose le cosiddette tesi d'aprile. Le tesi d'aprile, dal mese in cui furono pronunciate, sostanzialmente si riducono a che cosa? All'obiettivo politico di abbattere il governo Kerensky, quindi il governo borghese, e di fare un'altra rivoluzione, che questa volta avrebbe consegnato il potere agli operai e ai contadini. Tutto il potere ai Soviet. I Soviet erano comitati spontanei di contadini e di operai, che erano sorti spontaneamente. Quindi Lenin proponeva di togliere il potere al governo provvisorio borghese e di darlo a questi Soviet, cioè di fare un'altra rivoluzione in sostanza, che desse tutto il potere agli operai e ai contadini. E in aggiunta a questo Lenin proponeva anche di uscire immediatamente dalla guerra, a qualunque costo, anche a costo di cedere territorio. Altra richiesta che era fortemente popolare tra i soldati contadini, che ovviamente non ne potevano più di guerra, una guerra che ormai consideravano inutile, oltretutto. Ebbene, le tesi di aprile di Lenin portarono il partito bolshevico ad accrescere i suoi consensi, anche a spesa di altri partiti socialisti che erano presenti sulla scena in quel momento, fino al momento in cui, nell'ottobre del 1917, il partito bolshevico fece la sua seconda rivoluzione e quindi prese il potere. Lo fece in un modo diverso da come ci si aspetterebbe, perché non fu, come era stato in febbraio, una grande rivolta di popolo, ma fu un colpo di mano, anzi un vero e proprio colpo di stato, i membri del partito bolshevico, armi in pugno, diedero l'assalto e conquistarono la sede del governo russo, che era il Palazzo d'Inverno, il cosiddetto Palazzo d'Inverno a San Pietroburgo. Quindi la cosiddetta Rivoluzione d'Ottobre, che è la seconda rivoluzione russa dell'anno 1917, è un assalto che il partito bolshevico diede alla sede del governo, il Palazzo d'Inverno, e che ebbe successo, tanto che da questo momento in poi si parla di rivoluzione d'Ottobre e si parla di nuovo governo bolshevico dell'impero russo. E questa è la prima fase. Ovviamente tutti questi eventi non potevano restare senza risposta, ovviamente c'era molta gente che era contraria a questo improvviso colpo di mano dei bolshevichi. C'erano sia i partigiani di Kerensky, cioè la parte borghese della Russia, quella che aveva sostenuto il governo Kerensky, e così come c'erano anche i vecchi sostenitori del regime zarista, che era stato deposto mesi prima, e che erano forti in particolare tra i militari. Insomma, dopo la presa della conquista del Palazzo d'Inverno, il potere del partito bolshevico, per affermarsi davvero su tutto l'immenso territorio della Russia, dovete aspettare ben quattro anni, dal 1918 fino al 1922, periodo di quattro anni durante il quale si svolse la guerra civile russa, che vedeva da una parte i rossi, cioè i bolshevichi, e dall'altra i bianchi, che erano tutta la coalizione formata da tutti i nemici dei bolshevichi, che ripeto erano diversi anche tra loro, in particolare erano divisi tra borghesi fedeli a Kerensky e vecchi aristocratici fedeli allo zar. In ogni caso, alla fine la vittoria andò ai rossi, con una guerra sanguinosissima che portò alla Russia più morti di quanti non ne avesse fatti la stessa guerra mondiale, e che vive tra i suoi episodi più cruenti lo sterminio completo della famiglia reale, della famiglia dello zar, nella città di Yekaterinburg, che fu effettuato questo sterminio dai bolshevichi allo scopo di mettere fine alla famiglia reale russa, in modo che nessuno mai più potesse rivendicare il diritto di salire sul trono.